Salve, mi chiamo Maria Ianniciello e sono una giornalista indipendente. Questo è Informazione. Ogni venerdì, con uno sguardo lucido, ti racconto l'attualità vista attraverso i dati. Mi trovi su cultureculture.it, su Facebook Maria Ianniciello Fanpage e su Instagram Maria Ianniciello, giornalista. Buon ascolto! Oggi parlo di donne e politica, un tema molto sentito e comincio col darvi dei dati e poi facciamo alcune riflessioni. Sono 403 gli uomini eletti alla Camera e 227 le donne. Sono 207 gli uomini eletti al Senato e 112 le donne. Nel governo Draghi, su 23 ministri, 8 sono donne di cui 5 hanno ministeri senza portafoglio. Il Partito Democratico, che si definisce partito progressista che tutela i diritti delle donne, non ha nessuna ministra. In Europa l'Italia, dati del 2017, ha il 38% di elette ed è sopra la Germania che ha il 37%. I paesi europei dove la percentuale di elette supera il 40% sono la Norvegia, la Finlandia, la Svezia e l'Islanda. L'Italia oscilla tra il 30% e il 39%, come l'Inghilterra e la Scozia. Nel continente americano, sempre dati 2017, gli Stati Uniti oscillano tra il 10% e il 19% di rappresentanza femminile. I paesi con una percentuale superiore al 40% sono nel continente americano Messico, Nicaragua, Cuba e Bolivia. L'Argentina oscilla tra il 30% e il 39% di elette, come l'Italia. Il Rwanda è stato il primo paese al mondo ad avere nel 2008, questo in Africa, un governo con maggioranza donne, quasi il 53%. Ma questa nazione è un caso a sé perché è stata interamente ricostruita dalle donne dopo il genocidio del 1994. In Asia, l'unico paese dove il divario di genere a livello politico è meno marcato è il Nepal. Per il resto la situazione non è proprio rosea. Nemmeno in Austria le donne hanno raggiunto la parità in tal senso. Parliamo del 20-29% di rappresentanza femminile come in Canada. Quindi possiamo dire che da questo punto di vista la situazione in Italia non è catastrofica, ma deve essere assolutamente migliorata per un motivo sostanziale. Perché le donne non sono una minoranza. Le donne sono il 50% dell'umanità e quindi devono avere la stessa rappresentanza politica. Il rischio che si corre anche in Italia è che si facciano dei passi indietro. Dobbiamo quindi essere vigili. Le quote rosa, pur migliorando la situazione, non hanno azzerato il divario in politica. Perché ci sono problemi strutturali che riguardano la cultura, la mentalità del nostro paese. Uguale rappresentanza politica significa maggiore ascolto delle istanze femminili. E' una soluzione dei problemi che riguardano non solo le donne. E poi vediamo perché. I disagi femminili, inerenti alla lotta alle disuguaglianze sociali e le pari opportunità, soprattutto lavorative, si risolvono prima sulla carta e poi nella vita pratica, cambiando mentalità. E' importante tuttavia che la rappresentanza politica femminile sia di qualità e non legata a logiche di potere patriarcale. Si legge nel libro Invisibili di Caroline Criado Perez. Da diversi studi condotti, tra gli anni Ottanta e i primi anni del Nuovo Secolo, risulta che le donne sono più inclini a considerare prioritarie le problematiche femminili e ad appoggiare le proposte di legge che riguardano tali problematiche. Da uno studio su Paesi Ocse emerge anche che le parole delle donne si traducono in azione. Con il crescere della rappresentanza politica femminile, Paesi come la Grecia, il Portogallo e la Svizzera hanno visto aumentare gli investimenti a favore dell'istruzione. Per contro, quando nei tardi anni Novanti, in alcuni Paesi come l'Irlanda, l'Italia e la Norvegia, si è osservato un calo della presenza femminile negli organi legislativi, quegli stessi Paesi hanno sperimentato una comparabile diminuzione della spesa per l'istruzione in proporzione rispetto al PIL. Cresciamo con la convinzione, aggiungo io, di non essere mai abbastanza. Gli unici modelli che ci vengono proposti sono quelli di mamma, di moglie, modello attraverso le bambole, e di oggetti sessuali, attraverso immagini che vengono propinate dalla televisione, in modo particolare dalla pubblicità. L'intelligenza femminile nella nostra cultura è ancora scarsamente considerata, e questo è un grande controsenso, perché facciamo parte, siamo il 50% dell'umanità. Ha ragione, secondo me, la giornalista Caroline Criado Perez, quando dice che nessuno ci ha mai parlato a scuola o in casa, giungo io, di donne politiche, artiste, letterate, magistrate. Una donna è tale solo se è madre, dico io, aggiungo. Questo ci viene insegnato, ma così non è, non può e non deve essere così. Così come un uomo non viene valutato per il suo ruolo genitoriale, una donna deve essere vista in tutta la sua interezza, e non come l'angelo del focolare. Questa immagine è stretta e molto limitante. Per annientare questa immagine è necessario che le donne entrino in politica e che la rappresentanza femminile sia al 50% e anche di più. È giusto, è giusto che sia così, è un dovere, è un nostro diritto. Grazie a tutti.